Okinawa a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans signori e quest'oggi siamo qui con un nuovo video molto molto particolare ma prima di iniziare voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione c'è il link del mio Amazon Wish se volete passarci a darci un'occhiata e magari farmi un regalino io ne sono molto molto onorato inoltre c'è il bellissimo sito di Ko-fi dove potete fare ad azione singola o a cadenza mensile scegliete per il pezzo, scegliete per tutto direi che è molto molto onesto soprattutto se volete supportare ulteriormente il canale finalmente signori abbiamo sbloccato gli abbonamenti del canale quindi vi basterà andare su YouTube, cercare Ciris e cliccare su abbonati ovviamente ci sono vari livelli di abbonamento tra cui Okinawa Basic, Okinawa Super, Okinawa Master e Okinawa Supremo che è praticamente l'abbonamento finale signori ogni livellino avrà le sue ricompense tra cui andiamo a vedere Okinawa Basic avrete un bello in fedeltà accanto al vostro nome molto molto carino delle emoji personalizzate da utilizzare magari nelle live che faremo insieme aggiornamenti di foto e stato, risposta prioritaria ai commenti e soprattutto un town hall review che è molto molto interessante con Okinawa Super avrete tutte le ricompense precedenti più l'accesso in anteprima ai nuovi video signori che significa che se io vado a programmare un video che uscirà magari tra un giorno o due giorni voi lo potete vedere in accesso anticipato e molto molto interessante ringraziamenti agli abbonati e ovviamente collegamento con i vari social media con Okinawa Master avrete sempre le ricompense precedenti più la possibilità di giocare insieme a me registrare un video insieme se avete un'idea interessante e soprattutto dei video riservati soltanto a voi che nessun altro potrà mai vedere se non voi che vi siete abbonati a questo livello con Okinawa Supremo oltre a tutte le ricompense precedenti avrete in più anche il gruppo Whatsapp direttamente con me dove possiamo parlare tutti i giorni quello che volete di Clash of Clans, di varie cose quindi mi raccomando signori se volete supportare il canale e aiutarmi un pochettino non vi resta di cliccare su abbonati e scegliere uno dei livelli che vi piace di più inoltre voglio invitarvi a condividere il video con i vostri amici importantissimo perché più siamo è meglio e soprattutto ad iscrivervi al canale perché ho visto che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti a voi non costa nulla a me fate un piacere enorme e immenso se attivate anche la campanellina rimanete aggiornati sempre su tutti i video che vado pubblicati regolarmente dal martedì al sabato 14 e 30 puntuali sul canale mi raccomando signori mi raccomando ma siamo quest'oggi qui con questo account come vedete non siamo nel primo ma bensì siamo finalmente nell'account di cui vi avevo parlato anche in live che avevo perduto sono riuscito a recuperare le credenziali per riaccedervi quindi direi molto molto interessante ovviamente tante cosettine non sono state fatte ci sarà magari da lavorarci un pochettino su però diciamo che come villaggino sta messo abbastanza bene abbastanza bene c'è qualche miglioramento ancora da completare però più o meno più o meno ci siamo ovviamente vi faccio vedere un pochettino come si è messo tutto quanto il villaggino in questo video ci facciamo qualche attacchino e soprattutto signori se guardiamo negli artefatti abbiamo la runa dell'oro la runa dell'elisire la runa dell'elisire nero che ci serviranno tra pochissimo per mettere a fare qualche miglioramento interessante ovviamente come prima cosa andiamo a vedere i famigli signori i famigli purtroppo li avevamo molto bassi non aveva alzato nulla a parte l'unicorno e gli altri sono ancora da sbloccare quindi magari li metteremo in sbloccaggio successivamente e direi che quello è molto importante come skin degli eroi ho veramente pochissime skin sul re barbaro il re festaiolo sulla regina la regina fantasma perché sapete regà il mio grandissimo amore per Halloween cioè io adoro adoro assolutamente la festa di Halloween quindi questa era proprio al bacio signori molto molto più carina questa che quella zombie che ho anche sul primo account ma va bene quelli sono dettagli come il sorvegliante abbiamo il sorvegliante dei draghi che regà è figo più che altro è una skin differente da quella classica e c'è sta la campionessa purtroppo campionessa festaiola non è che mi fa impazzire più di tanto però questa c'era e questa mi sono ottenuto ovviamente è l'unica skin che ho differente in questo account quindi regà purtroppo l'ho selezionata giusto che è qualcosa di un pochino differente ma in realtà probabilmente anche la classica magari mi piace anche un po' di più quindi rimettiamo la classica ma che ce frega ovviamente nel laboratorio ci stanno un bel po' di cosettine da andare a fare perché dobbiamo alzare un bel po' di truppettine abbiamo le truppettine un pochino basse fondamentalmente quelle che vado ad utilizzare sono tutte maxed quindi tutto sommato non c'è neanche troppo da fare giusto magari le vacchiliette che sarebbe interessante portarle un pochettino su e anche le straghette perché utilizzo anche qui l'attacco con le route rider che avete visto tante tante volte in live ovviamente se non volete perdervi nessuna live invito ad attivare anche la campanellina del canale così vi arriva sempre la notifica ogni volta che io sarò in live o che pubblico un video molto interessante allora direi che possiamo iniziare subitissimo a metterci a migliorare la pipistrello perché noi abbiamo 95.000 di elisir nero e con la pipistrello ne sprechiamo esattamente 95.000 belli belli precisi così signori direi ottimo possiamo utilizzare già subitissimo la runettina dell'elisir per fare un bel pienone 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 ovviamente signori non vi ho detto i livelli degli eroi i livelli degli eroi sono per la regina a livello 70 quindi era già bella tirata su io sapete la regina è quella che adoro più di tutti il re barbara al 67 più o meno stiamo abbastanza vicini alla regina il sorvegliante 57 la campionessa 35 che già 35 signori devo dire già sta bella bella su manca poco per averla maxata questa volta in questo account e qui l'avevo alzata un pochettino di più perché la campionessa signori è molto interessante specialmente per la tattica che utilizzo io quella di mandarla avanti per andare a distruggere la eagle è molto molto figa però signori vorrei andare a fare con questo elisir nero ovviamente potenziare magari qualche pet perché perché qui non abbiamo ancora tutti i pet che ci servono tra cui la fenice la volpe degli spiriti non credo che possiamo sbloccarla ma la fenice e la lucertola sputa veleno in teoria si però però signori noi abbiamo un unicorno a livello 8 che a me piacerebbe averlo maxed anche in questo account e quindi direi che possiamo andarcelo a mettere a fare attendiamo 7 giorni che non sono pochi però intanto quello sta lì e si migliorerà ovviamente con l'oro e l'elisir io con l'elisir vorrei mettere a fare la casetta dei famigli ma ci serve 17 milioni così sblocchiamo anche dillo andiamo a vedere un pochettino i vari miglioramenti che possiamo fare in questo villagino che fortunatamente abbiamo recuperato dopo un botto il tempo che ci provavo non riuscivo a ritrovare più i dati di accesso poi ci sono riuscito con le mail e il cazzo non con il cazzo mi è uscito male non intendevo quello però ci sono riuscito e vediamo un po' che possiamo mettere allora la fabbrica degli incantesi mi sarebbe interessante perché ci spreca tutte 9 milioni di elisire che noi dobbiamo andare ad utilizzare e così sblocchiamo l'incantesimo richiamo e ci sta ci la mettiamo bella pulita ci facciamo un bel riempi dell'elisire si esatto dell'elisire e ci andiamo a mettere a migliorare anche la casettina dei famigli signori nel mentre tanto continuerà a a migliorare il nostro famiglio e direi che ci possiamo utilizzare anche una pozioncina del costruttore giusto per velocizzare un pochettino il tutto ovviamente ovviamente abbiamo ancora 4 milioni abbondanti nel castello del clan non abbiamo nulla perché ovviamente devo portare anche questo account nel clan dove sono tutti gli altri poi andare a vedere cosa possiamo fare con 8 milioni di oro 8 milioni di oro potremmo fare la capannina del costruttore e sprecarli tutti una torre dell'arciere che potrebbe essere ancora più interessante secondo me o possiamo fare altre costruzioni in realtà ce ne sono poche da dover andare a migliorare a parte qualcosa che costa più di 8 milioni quindi 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 cosa ci mettiamo a fare signori abbiamo 4 costruttori uno lo lascio libero come sempre per fare i murettini ne dobbiamo impegnare 3 abbiamo 8 milioni più altri 22 abbiamo 30 milioni di oro con 30 milioni di oro divisi ovviamente 30 milioni di oro cosa possiamo mettere possiamo andare a fare possiamo farci anche tutte e tre le torri degli arcieri volendo eh signori perché no perché no ci possiamo mettere da 8 milioni l'una le torri degli arcieri direi che è molto interessante facciamo subitissimo un refill dell'oro e ci andiamo a mettere le altre due torrettine degli arcieri che se le troviamo adesso è veramente un miracolo ma non le troverò mai ok eccole qua invece vai perfetto così e dove sta l'ultima l'ultima eccola qua signori ottimo così ci avanzano un po' dei soldini che tra pochino andremo a spendere ma prima ci facciamo un attacchino signori perché ogni tanto ci sta anche attaccarci un pochettino qualcosetta anche con gli altri account per dirvi questo qui inattivo signori chi ce lo manna 700 mila di oro e quasi 700 mila dell'isire devo dire arbacio perfetti proprio secchi subito senza manco dove schippa direi perfettissimo ovviamente utilizziamo la solita tattica che vado a utilizzare ma questa volta sul monolito perché così la eagle è inattiva quindi fondamentalmente che ce frega poi andiamo a pulizia con due pacchidette laterali e piazziamo tutto il resto delle nostre truppettine addietro compresi gli eroi ovviamente furiettina per dare un piccolo sprint iniziale in realtà non c'è nulla che debba andare a gelare quindi metto qualche gelo così a caso giusto per tanto regà è un inattivo cioè è impossibile praticamente non fa tre stella questo utilizziamo pure abitare il sorbricante così non prendiamo l'esplosione del TH e stiamo attenti un pochettino dove stanno le nostre truppe con meno vita perché le root rider ci serve poco andarle a curare in realtà sì un minimo però le streghette magari o le valchirie è più interessante quindi bella curetina qua sotto mettiamo secondo noi una gelo qui regà perché potrebbe darci fastidio ovviamente ovviamente non vi ho detto anche che ho comunque completato anche in questo account l'evento dello specchio per la regina perché regà secondo me è una delle abilità più forti in assoluto il re barbaro ha la palla d'acciaio che è tanta tanta roba ovviamente sapete come vado a utilizzare io le mie varie abilità l'unica che non ha l'abilità che mi interessa se non sbaglio era la campionessa perché la campionessa non ho sbloccato ancora l'abilità dei domatori ma ha soltanto quella della lancia razzo che regà la lancia razzo è praticamente inutile a parer mio però va bene magari la sbloccheremo nei prossimi episodi che porterò anche su questo account sempre se li volete vedere ovviamente rimettiamo in addestramento le truppettine e direi che possiamo cercarci un altro velagione interessante da attaccare signori sperando di trovare qualcosa di very very good in realtà questo è inattivo che dite signori ci attaccamo questo ci accontentiamo i 700.000 certo che si 700.000 sono comunque sempre buoni che ci frega a noi che ci frega è buono così mettiamo la solita combinazione anche se in realtà serve a poco andiamo a pulire un pochettino con le vacchilette laterali e piazziamo tutte le truppe senza pensare troppo perché tanto lo spacchiamo malamente attenzione attiviamo l'abilità della campionessa perché stavamo ricco la veleno malamente rega malamente piccola furiettina per dare un po' di sprint piazzata totalmente a caso non ho beccato sto a morire neanche una sola truppa va benissimo così ottimo chis stamattina signori i miei occhi fanno un po' così eccola come gli pare però va bene siamo arrivati all'interno del villaggio per fortuna che stavo a dire lo distruggiamo rega abbiamo perso quasi tutte le truppe porca la puttana abbiamo perso di tutto di tutto però 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 signori attenzione perché abbiamo ancora tutti i reali a parte la campionessa abbiamo ancora i reali quindi fondamentalmente dovremmo spero riuscire a fare tre stelle se non faccio tre stelle contro sono inattivo giù giù non disinstall clash of clans perché non è possibile signori che facciamo un fail del genere ovviamente mi auguro di no e spero proprio di no attiviamo la vita della queen così abbiamo anche la clone e le bellissime curatrici che fanno il panico il re barbaro in realtà aspettiamo un pochettino e poi attiviamo la vita anche del re barbaro quante vacchilette che sono appena esplose va bene così va bene così non devo parlare perché ogni volta che io dico ah che figo c'è stanno ancora queste truppe muoiono esplodono male attiviamo la vita del re barbaro e direi che ci siamo distrutti tutto quanto il villaggino fortunatamente se non facevo il fail più grande della storia va bene così va bene così ci abbiamo signori ancora un po' dei risorsini con queste risorsini cosa possiamo andare a fare ovviamente questo dovremmo migliorarlo per sbloccare prima il tomo ristorativo e dopo se non sbaglio c'era il prossimo livello il pupasso dei domatori per la campionessa quindi non sarebbe male magari vediamo un pochettino se con l'elisir ce la facciamo in teoria pannaggia manca pochissimo quanto ci manca cavolo raga ci manca veramente poco un attacchino facciamo così signori ci dispendacione non me ne frega niente vai ce le gemmiamo di madonna 100 gemme raga moto siamo seri così tante vabbè oramai l'abbiamo fatto che ce frega raga voi sapete che siamo spendacioni in questi video quindi ogni tanto ci sta a spendere 100 gemme forse sono troppe perché potevo sbloccarmi l'apprendista costruttore però va bene va bene farò qualche missioncina magari le recupero non è un problema e ci andiamo a fare l'apprendista costruttore poi allora direi che questo qua ce lo possiamo attaccare 800 mila 700 e passa mila e lì sera a noi ce ne servivano io non me lo ricordo 500 mila quindi in realtà se noi facciamo tre stile belle belle pulite ce le portiamo a casa ovviamente solita combinazione mettiamo un pochino un po' più barchili a pulizia laterale perché tanto le risorse stanno tutte quante nei miniere senza un bel dubbio poi direi che possiamo procedere così in linea a piazzare tutte le nostre truppette cattive cattive con gli eroi a dire no ti vado l'abitata della campionista sto rincoglionito vabbè no problem comunque andiamo subitissimo di furiettina e un'altra bella una bella curetta qua a mezzo ce la dobbiamo mettere per forza una piccola gelo non ho messo la cura ma ho messo un'altra so rincoglionito vabbè questa mattina signori il ciris sta non lo so allucinato non riesco a cliccare le cose giuste che devo cliccare attiviamo l'abitata del sorvegliante tanto per speriamo ovviamente di portarci via tutto il bottino tanto l'importante lo sapete ve l'ho sempre detto non sono le stelle per quanto mi riguarda ma sono i soldoni sono il bottino perché è quello che ci serve per migliorare il villagione quindi sti cavoli regà dei trofei anzi in realtà dovrei scendere probabilmente un pochettino di trofei per trovare qualche cosettina più buona però vi devo dire fondamentalmente dei nativi ne troviamo tanti anche qui quindi va bene così completiamo subitissimo l'attacchino signori e poi andiamo belli belli precisi a fare l'ultimo dei miglioramenti ovviamente signori sti cavoli delle tre stelline direi molto interessante ci andiamo a migliorare qualche muretino che dite ce lo facciamo qualche muretto secondo me ci può sta ci andiamo a fare qualche momento ne prendo un po' a caso utilizziamo l'oro tanto che ci frega l'oro adesso non ci serve ottimo così con 8 milioncini e 800 mila giusto si 8 milioni e 800 mila ci andiamo a migliorare anche il fabbro non mi lascio un costruttore libero che cavolo mi frega ci facciamo direttamente tutto perché il fabbro mi interessa avere subito il pupazzetto dei domatori per la campionessa perché è tanta tanta roba quindi intanto lo miglioriamo così poi andremo a migliorarlo successivamente ovviamente signori io vi invito a lasciare un bel like di supporto per questo video soprattutto un commentino che ho scritto cosa ne pensate di questo account che sono riuscito a recuperare soprattutto se sta messa abbastanza bene i muri stanno un po' incasinati perché ho cambiato la disposizione di recente però fondamentalmente direi che non è malvagio ci può stare c'è sempre ovviamente tanto tanto da lavorarci su scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate ovviamente scrivetemi anche quali sono i migliori miglioramenti che secondo voi dovrei mettere per primo in questo villaggio quindi vedete un pochettino quello che è e ditemi cosa andare a migliorare prima di altro ovviamente vi invito a condividere il video con i vostri amici importantissimo signori perché più siamo e meglio è sovattutto ad iscrivervi al canale perché ho visto che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti a voi non costa nulla a me fate un piacere enorme immenso se attivate anche la campanellina rimanete sempre aggiornati su tutti i video che vado a pubblicare regolarmente dal martedì al sabato tutti i giorni 14 e 30 puntuali sul canale mi raccomando se volete supportare il canale ci sono gli abbonamenti accanto al mio nome potete scegliere il piano che più vi aggrado che più vi fa piacere di attivare e ovviamente se volete passare anche da iscrivervi dove ogni tanto faccio qualche storiellina dove ringrazio gli abbonati dove vi avverto delle live o dei video che sono appena usciti e magari anche di progetti futuri mistici misteriosi del canale signori molto molto interessante niente qui da Ciris e dall'account segreto recuperato è tutto un salutone bella regà ciao